Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigic E benvenuti in un nuovo video PC Gaming Esatto, perché oggi parliamo di Steam L'emblema del PC Gaming Esatto La rappresentazione aurea del PC Gaming Steam è un software semplice alla fine Tu devi comprare e installare e giocare i giochi, è vero Però se è diventato uno dei, anzi il Store videoludico in questo momento su PC Che è la più grande piattaforma di gaming attualmente in commercio Dopo il mobile gaming E' ovvio che ci sarà un motivo Perché, oltre alle tante funzioni del client Che è il software che installate sul PC Da cui fate girare i giochi Ci sono veramente tante altre cose che Steam può fare E oggi vi diamo dei trucchi che sicuramente non conoscete Qualcosa sì, magari, ma la maggior parte non li conoscete Che si possono fare con Steam Stavo per tirare un'altra botta E ho detto no, se no li stordisco Il canavacciuolo dell'hardware Dopo essere la Ferragni dei PC Sono il canavacciuolo dell'hardware Quindi partiamo con le cose un po' più soft Che sono magari funzioni un po' più nascoste di Steam Che non tutti usano e che magari non tutti conoscono appunto Come ad esempio il remote download Travite l'app di Steam del vostro smartphone Potete appunto vedere la lista di giochi in libreria che avete E far partire l'installazione in remoto Così, semplicissimamente Avete la vostra libreria a disposizione Ovviamente deve esserci il dispositivo su cui volete far partire il download acceso Perché se no ovviamente non ha senso Però potete farlo tranquillamente se siete in giro Ad esempio esce il nuovo gioco non rotto Lo volete scaricare prima Lo comprate subito magari anche a lavoro Invece che lavorare come tutti fanno E da smartphone fate partire il download a casa Così appena tornate ci potete già giocare E sei un genio Tutto qui Anni di esperienze Anni di esperienze Di ore rubate al lavoro Non so Reddito di cittadinanza forever Figa Scherzi a parte però ovviamente può tornare comodo In tutte queste situazioni Soprattutto per tanti di voi Che magari non hanno ancora una connessione veloce O non hanno ancora accesso appunto a una fibra Che sia FTTC, FTTH E quindi devono ottimizzare anche le fasi di download Il secondo trucco è lo storage manager E come giocare magari da un hard disk esterno Che è la cosa più semplice del mondo Alla fine Steam vi permette di gestire le sue librerie Quindi non Allora di base voi installate il programma Lo ritrovate in programmi x86 Quello che è nella cartella dedicata E lì vi mette la libreria dei giochi di default Sì perché dipende dalla vostra configurazione di hard disk A volte può essere che avete un hard disk più veloce Meno capiente Un hard disk più lento più capiente Magari esce il nuovo AAA Vi va di spostare direttamente un gioco Che avete installato Che magari non richiede così tanta O comunque che non sfrutta una velocità di nulla Ad esempio Civ 6 Che è uguale a farlo giocare su un SSD Che è su un SATA Ma fidatevi che vale per tantissimi giochi su Steam Per cui non fatevi la paranoia Perché il direct storage è ancora boh Non sappiamo ancora quando arriverà Su cosa arriverà Quindi di fatto tanti giochi E lo ha dichiarato Steam stessa Soprattutto con il lancio di Steam Deck Che ovviamente ha la possibilità di installare l'Sd Esatto Che anche installando giochi su un dispositivo esterno In questo caso ovviamente il consiglio è quello di recuperare un SSD Come quelli che vi diciamo sempre Recuperati via Black Friday Che poi vi serviranno eccetera eccetera Va uguale o comunque le prestazioni perdono davvero poco Sì esatto Il terzo punto è qualcosa che è salito alla ribalta da pochissimo A causa della O per merito Della presentazione di quella favolosa PlayStation Q Ah porcata Ma che di fatto Steam fa da anni Perché esiste Già da tempo Ma anche Sony lo fa da anni Ma anche Sony lo fa da anni Infatti Cioè ormai è una prassi abbastanza diffusa Su Steam ci sono stati proprio dei lanci di prodotti Addirittura di hardware Dedicato allo streaming dei giochi Lo Steam Link In locale appunto Cosa che adesso con Steam Link Se non sbaglio è andato fuori commercio Non si può più comprare O comunque è molto difficile da reperire Quindi Quella cosa lì che faceva Steam Link Che era un macchinino che attaccavi alla TV Per giocare i giochi da TV Streammandoli dal PC Adesso lo puoi fare con Steam Link Che è l'applicativo che potete trovare Su Smart TV Su Android Su iOS Eccetera eccetera Ovviamente potete farlo su diverse configurazioni a svolta Perché vi permette di giocare Sia in casa che fuori Con la vostra libreria di Steam Basta avere una connessione internet E a tutti quelli che dicono che a PC ci giochi solo dalla postazione Non puoi giocarci dal divano Toh! Una cosa che io e Lore abbiamo da un botto È il Family Perché? Perché a volte per il canale non ci va di comprare Giochi che dobbiamo testare Se dobbiamo testarli su una postazione o la sua Due volte Magari giochi che non testeremo mai più o cose così E fidatevi che è successo un sacco di volte E quindi a volte abbiamo fatto la condivisione col Family Così che a volte possiamo farle andare dalla mia postazione o dalla sua Ma l'importante è che non vadano contemporaneamente È una funzione che potete fare anche tra di voi Di fatto è quello che sta annullando Netflix Cioè la condivisione di un account In pratica si tratta di condividere i giochi Condividere le librerie E comunque l'accesso a determinati giochi Se io ce li ho lui non ce li ha Lui può giocarli Installarli E non streamarli dal mio pc Ma proprio installarli E utilizzarli Come se fossero suoi Però non può giocare contemporaneamente Cioè non è alla Netflix Che hai più account E giochi anche allo stesso gioco Magari giocate addirittura insieme Avendo comprato un titolo Vabbè quello no No, quello non esiste Avviate un titolo Mentre l'altro non gioca E arrivando a una funzione Che probabilmente in tanti conoscono Perché di fatto è abbastanza diffusa Come utilizzo Anche se non sono così sicuro Che lo utilizzino tutti E secondo me è una cosa Che non tutti conoscono Steam ha un FPS counter Cioè un appunto Qualcosa che ti fa rilevare Gli FPS attualmente in gioco Quindi è una cosa carina Che a alcuni può servire Ed è facilissima da applicare Sono veramente tre click Sì infatti Nelle impostazioni Semplicemente attivate L'FPS counter Quindi vi arriva in alto a sinistra Che lo fate in evidenza o meno Quindi bianco o verde L'FPS counter Solo con gli FPS Un po' come i fraps Degli anni passati Per appunto avere una metrica In tempo reale Di quello che sta facendo il gioco Ricordatevi prima che è una metrica Super mega Diciamo povera di significato Perché per vedere i dati Per fare i test Ci vogliono le medie I percentili E ancora il metodo migliore Sarebbe analizzare Il frame time del gioco Il counter FPS O l'FPS medio È un dato che ha L'utilità che ha Ecco E altra funzione integrata in Steam Che non penso proprio Che tutti conoscano Ne utilizzino Anzi Secondo me Che ci sono le mod su PC Lo sanno tutti Esatto Però non tutti le usano Anzi Secondo me Ci sono tantissime persone Che non sanno neanche Che c'è un'integrazione su Steam Oh devo installare Nexus mod È un casino Bravissimo Invece ragazzi su Steam Alcuni giochi Non tutti ovviamente Hanno il workshop Quindi semplicemente Basta andare Sulla sezione workshop Vedere la mod Che c'è i più sottoscritti Quelli magari più votati Quelli che hanno Comunque diverse classifiche E voi potete Sceglielo Schiacciando un più Lo sottoscrivete E ce l'avete installato Sul vostro gioco Sbatti Zero Ed è una cosa Che vi diciamo da anni Cioè quante volte Ci avete sentito dire Il gioco girato Con la mod Per magari Migliorare le texture O aggiungere effetti Aggiungere funzioni Al gioco Cioè ne parliamo Veramente spesso Ed è una cosa Sottovalutatissima Che non fanno in tanti Molti giochi hanno Esperienze Totalmente diverse Rispetto anche solo Il workshop E ovvio che Nexus mod Ha un botto di roba in più Per tutti i giochi E potete installarla E ok Però anche solo il workshop Ad esempio Per Civ 6 Crusader's Kings Cioè veramente Cambia Molto Ma veramente Tanto E vi dà Un divertimento in più Infatti E ora passiamo alle cose Un po' più curiose Quelle che ci Solleticano un po' di più Anche a noi Perché Steam È un programma Che per tanti Ed è stata una critica Molto diffusa negli anni È vecchio Un po' come interfaccia Nero grigio Sempre lo stesso Quindi magari Non si è evoluto Tanto con gli anni Ma probabilmente Anche per tutte Queste possibilità Di modifica Che ha E integrazione Che ha con altri software Con siti Eccetera eccetera Ma si può personalizzare? Sì di fatto C'è un metodo Per personalizzarlo Non globalmente Ma comunque In maniera Già importante Tutta quella Che è l'interfaccia Di Steam Che è proprio Una cavolatina Perché è un sito Su cui voi Ricostruite L'interfaccia Ovviamente Non in toto Al 100% La personalizzate Quindi ad esempio Adesso magari Vi stiamo facendo vedere Ci mettete un logo Che volete voi Un'immagine Che volete voi Cambiate tutti i colori Dell'interfaccia Il font Del testo Le grandezze Eccetera eccetera Quindi personalizzarlo Un po' Nel vostro stile Che ovvio È una modifica superficiale Non è che riscrivi Il codice dell'app Però la svecchi Un po' magari Una cosa Fighissima ragazzi Che a me piace Tantissimo Il PC gaming E qua ci saranno Alcuni punti Legati a questo È che Il PC ti dà Metriche Ti dà dati E ti dà Un sacco di cose Cosa che il mondo console Non ti dà Parzialmente Solo poche volte Ti danno le ore Cioè su Switch Da poco Ti danno le ore Ma è una cosa Che di dati Ne hai pochissimi Come la possibilità Di recensire O di fare altro Che Steam invece Ti proprio Ti inonda di dati Come tutto il PC gaming Esatto La cosa figa È che qua Se vai sul sito SteamDB Calculator Voi avete Le statistiche Del vostro account Di Steam Se mettete il vostro Ovviamente Il nome utente Oppure l'ID E avete addirittura Il valore Del vostro account Di Steam È una figata Vi dà le ore giocate Le ore medie Di utilizzo all'anno Il numero di giochi Quanto avete giocato A tutti i giochi Quindi Vi dà proprio Una serie di metriche E poi continuiamo Anche con questo Punto in particolare Con altri siti Ed è veramente Fichissimo Anche solo per fare Un'analisi Di quelli che sono Magari i giochi Che vi piacciono di più Ma poi voi scherzate Ma più vai avanti Con l'età Più il tempo Per giocare diminuisce Ed essere focalizzati Per andare dove Sei sicuro Di prenderla È la cosa più importante A questo ci arrivi Solo con i dati Avendo l'approccio Lavorativo All'approccio Diciamo Un approccio data driver A un approccio Veramente videoludico Ma utilizzando i dati È veramente figo Individuare Attraverso Steam Che ti dà un sacco Di strumenti Il gioco giusto Per il tuo utilizzo Per quelli che sono L'evoluzione Di tuoi gusti Che sono Nei dieci anni Di utilizzo Di Steam Passa Nel mio caso Totalmente cambiati Dove ho I primi anni 2013 12 Così dove gioco Solo FPS E poi non ne vedo uno Da anni ormai E questo mi dà Molta più capacità Nel capire quando Come Cosa è A capire dove Posso andare A spendere Non per l'amore del cielo I soldi del gioco Perché quelli Vabbè su PC I giochi Non è che costano Tantissimo Ma il tempo Che è la cosa più prezionosa Che abbiamo Non investendolo In giochi del cazzo E proprio per la metrica Di ore In questo caso Più relazionato anche Alla media Dei videogiocatori PC C'è anche Long to Beat Che ha una metrica simile Ovvero Ti analizza Sempre tramite Il tuo ID di Steam Le ore singole Per videogioco Messe in paragone Con quello che è Il tempo medio Speso dai giocatori In quel gioco Sempre che qua Per una funzione di orario Per il tempo Che dicevo prima Qua vi fa capire Magari Innanzitutto Quanto può durare In media Quanto può durare un gioco Ma soprattutto Se l'avete già fatto Voi Come l'avete affrontato E quanto ci avete messo Cosa che è Fighissima per vedere Se magari Tu sei un completista O meno O se sei uno Che va diritto al punto O per scoprire Che hai passato 150 ore su 3D E per chiudere Una cosa che È diventata Veramente utilissima A noi In questo anno Di Steam Deck In particolare Ma che di fatto Si può fare Più o meno da sempre Su Steam Esatto Aggiungere app Non di Steam Su Steam È una cavolata Ma può essere Veramente utile Soprattutto nel caso Di emulatori E farle proprio Diventare Delle app Di Steam Ci mettete anche La copertina Addirittura Ci sono delle mod Ad esempio Di videogiochi moddati Ad esempio di Pokémon A cui hanno fatto Proprio la grafica Della loro copertina Su Game Boy Advance O su altro Io me la sono messa Lì su Steam E proprio quando Schiaccio il gioco Ho le ore Esattamente come se fosse Un gioco su Steam Ed è una figata Vale per questo Vale per gli emulatori Lo abbiamo visto appunto Con i video Gli ultimi video Su Steam Deck Per emulare Con determinati programmi Che si possono aggiungere Su Steam Ma è valso tantissimo Anche per il discorso Game Pass Su Steam Deck Che si doveva fare Riproponendo un browser All'interno Come se fosse un gioco Quindi andare Sul Game Pass In maniera un po' Arzicocolata Diciamo Ragazzi Questi erano i punti Che in questo primo video Di Steam Probabilmente ne faremo altri Perché ce ne sono Veramente 800.000 Oppure se volete addirittura Un video dedicato Su come accelerare I download Su Steam Fatecelo sapere Qua sotto in descrizione Che può essere Qualcosa di interessante E ricordatevi comunque Di Prodigy Cofferte Just Track It Perché sono uscite Le schede video A prezzi del cavolo Per cui se migliorano Ovviamente Questi sono metodi Meravigliosi Per sapere appunto L'andamento dei prezzi Per vedere Se migliorano Ovviamente Come al solito Dato che è un video Di punti E di trick Un po' Da utilizzare su Steam Arricchitelo Qua sotto nei commenti Quindi se avete Qualche trucco particolare Per arricchire un po' Il video Fatelo tranquillamente Lo spazio è tutto vostro Nella prossima ragazzi